Eccoci allo stand Beretta, EXA 2011 con Elisabetta Materossi, la nostra responsabile per l'abbigliamento. Elisabetta, Optifade, dici che cosa significa questo, come possiamo chiamarle, un marchio, una linea, un tipologio di abbigliamento? Raccontaci qualcosa. Optifade è il nuovo sistema di mimetismo digitale che nasce da uno studio fatto da Gore, che è nostro partner nello sviluppo della collezione abbigliamento da anni. Optifade è un nuovo concetto di mimetismo, cosa significa? Mentre una volta ci si mimetizzava con l'ambiente circostante, oggi invece cambia la prospettiva, ci mimetizziamo agli occhi dell'animale. Dopo uno studio fatto sulla visione animale, sulla visione umana, Gore ha rotto quelli che sono gli standard utilizzati fino a qualche anno fa. L'ungulato, non vedendo l'orizzontalità e la verticalità dell'uomo, cosa hanno fatto? Hanno rotto queste linee orizzontali attraverso micro e macro disegni, per cui l'animale in questo caso non percepisce più la figura umana. Beretta, in partnership con Gore, presenta diverse soluzioni a livello tecnico di abbigliamento, studiate appunto per la caccia in montagna agli ungulati. In questo angolo dedicato a Gore possiamo apprezzare due completi, uno in Gore-Tex Windstopper, quindi un completo adatto per camminare, molto leggero, idro-repellente e che mantiene la tecnicità dell'interscambio di umidità dall'interno verso l'esterno e protegge il corpo umano comunque dall'effetto wind chill, che sarebbe l'effetto della percezione del vento, che fa abbassare la temperatura corporea. Sul secondo manichino invece abbiamo il 500 ELP, che sta per Extreme Light and Packable, è un Gore-Tex Pack Light, due strati e mezzo di tessuto, molto leggero, pesa solo 500 grammi ed è un altro capo estremamente tecnico adatto per le camminate, impermeabile, totalmente nastrato, come si può vedere da questa cucitura all'interno del collo. è un capo tecnico che rappresenta il massimo di tecnologia che Beretta propone per il suo pubblico. Grazie Elisabetta per questa spiegazione veramente esaustiva sulla OptiFade, quindi la tecnologia e il mimetismo che entra nell'abbigliamento Beretta. Grazie ancora.